Oggi per il cimento anche con una bimba, come vi chiamate? Io mi chiamo Giorgio e lei Greta Com'è l'idea di fare questo cimento? Ma non so, perché a lei le piace sempre bagnarsi, allora abbiamo deciso, io sono già veterano Anche, nonostante il freddo o comunque le temperature? È freddo, caldo, è sempre meraviglioso fare il bagno Lei non vede l'ora o qualche tipo? Io adesso li faccio tutti, da Santo Stefano fino a Befano Grazie